Si terrà dal 16 al 19 maggio presso il Conservatorio di Santa Sofia di Monte Corvino Rovella il primo festival di arte e cultura. L'evento, diretto da Giuseppe Carabetta, vedrà l'allestimento di una rassegna d'arte contemporanea e di una serie di incontri storico-letterali. Il primo sarà dedicato al libro Il giudice brigante di Felice De Martino, il secondo sarà un omaggio a Dante Alighieri ed il terzo sarà dedicato alla vita e alle opere di Giovanni da Monte Corvino. Nasce dall'idea di un pool di amici a cui sta a cuore l'arte, la cultura e che vogliono fortemente portare questo argomento nell'ambito del comune di Monte Corvino Rovella. Durante il festival ci sarà una rassegna d'arte contemporanea ma anche la presentazione di libri. Ci sarà una rassegna d'arte contemporanea a cui parteciperanno 22 artisti con un curriculum importante con l'esposizione di 44 opere. Durante i quattro giorni di esposizione saranno ospitati personaggi in auge in questo momento come per esempio l'architetto De Martino che ha scritto un stupendo libro dal titolo Il giudice brigante. Poi ci saranno la seconda serata, il 18, due professori universitari, Pina Basile e Vincenzo Salerno che discuteranno su temi inerenti Dante a Lighieri. Il 19 poi sarà la volta di due storici, Nunzio Di Rienzo e Salvatore Cingolo che parleranno di personaggi storici del territorio di Monte Corvino Rovella. I ringraziamenti vanno all'amministrazione comunale di Monte Corvino, al Proloco e alla nuova scuola medica salernitana e alla Dante a Lighieri di Salerno.